Buongiorno, in questo video vedremo molto brevemente come strutturare un elemento di Wikidata e come aggiungere ad esso delle informazioni a partire da fonti disponibili online. Dunque ogni elemento di Wikidata è identificato dalla lettera Q seguita da un numero e si compone di quattro parti. La prima parte comprende etichette, descrizioni ed eventuali alias nelle diverse lingue. Tendenzialmente per quanto riguarda le persone contemporanee lingue con lo stesso alfabeto condividono più o meno lo stesso nome. Ovviamente le descrizioni differiscono da lingua a lingua. La seconda parte dell'elemento è costituita dalle dichiarazioni che forniscono dati strutturati relativi all'entità rappresentata. La terza parte dell'elemento è costituita da identificativi che mi permettono di vedere la medesima entità rappresentata in altri database presenti online. L'ultima parte dell'elemento comprende i link alle voci delle diverse wikipedia e degli altri progetti wikimedia relativi all'entità rappresentata. Quindi adesso ricaricherò questo elemento con l'aggiunta di una serie di gadget che ho attivato nella mia utenza per semplificare la mia attività di modifica. Se volete attivare i medesimi gadget potete andare in questa pagina wikidata gruppo wikidata per musei archivi biblioteche slash editato mensile scritto esattamente così e in particolare alla sezione preparazione e seguendo queste istruzioni che trovate sia in italiano sia a fronte in inglese potrete attivare appunto questi gadget alcuni dei quali potrete ora vedere all'opera. Dunque in questo elemento innanzitutto vediamo il mix match gadget che mi dà la possibilità di scegliere se aggiungere o meno altri identificativi di cui io posso vedere una sorta di anteprima in queste righe vedete che il fasted sto aggiunto mentre devo scegliere se aggiungere l'enciclopedia nazionale lituana che rappresenta vedete la medesima persona una poetessa nata nel 50 quindi aggiungo questo identificativo se ricarico l'elemento troverò l'identificativo al suo posto qui in fondo nella sezione identificativi a questo punto posso aprire l'enciclopedia nazionale lituana ed usarla per fare ulteriori aggiunte all'elemento vedete che ho una data di nascita con precisione giorno che posso andare quindi a sostituire a questa data di nascita che oltretutto ha come fonte wikipedia wikipedia è sempre una fonte che si può rimuovere in favore di fonti perie proprie wikipedia non dovrebbe essere mai usata come fonte quindi si può in questi casi rimuovere e aggiungo la data con precisione giorno così come l'enciclopedia nazionale lituana mi dà anche una data di morte che posso aggiungere e quindi vado su aggiungi dichiarazione e aggiungo la data di morte e posso aggiungere anche i luoghi di nascita di morte che sono in entrambi i casi il medesimo e quindi aggiungo un luogo di nascita qui lo faccio tramite quick presets per maggiore velocità vedete che si tratta di chicago nella forma lituana e quindi nata e morta a chicago mi dice anche che è vissuta negli stati uniti d'america quindi direi che si può aggiungere residenza stati uniti d'america e vedete che ci sono dei titoli di opere in lituano quindi si può dire che abbia parlato ovviamente lituano e che abbia scritto in lituano more identifiers vedete mi propone l'aggiunta di altri identificativi questo in questo caso stati dal viaf cioè da questo clusterizzatore da questo raggruppatore di identificativi forniti da biblioteche nazionali vedete la nazionale tedesca la nazionale lituana e la nazionale polacca che in tutti e tre i casi come certificano le date di nascita e nel caso della nazionale polacca anche la data di morte rappresentano effettivamente la stessa persona e quindi aggiungo gli identificativi tratti dal viaf e ricarico la pagina andando quindi a vedere questi identificativi tratti dal viaf che vengono ad occupare il loro posto e al tempo stesso potrò vedere le dichiarazioni che ho aggiunto ordinata al loro posto ovviamente mi viene richiesta una fonte questa fonte si può aggiungere nel modo più semplice usando uses ref che è questo gadget che fa comparire questa icona questa icona mi permette di dire che io sto prendendo le informazioni dalla encipropedia nazionale lituana quindi copio l'icona uso appunto l'icona di copia vedete che diventa verde si apre questo messaggio in alto a destra risalgo nell'elemento e incollo riferimento su residenza negli stati uniti sul fatto che era una poetessa io posso rimuovere il riferimento da wikipedia in polacco che non mi serve più e aggiungere l'enciclopedia nazionale lituana sul fatto che parlasse e scrivesse in lituano sulla data e luogo di morte sulla data e luogo di nascita e quanto basta a questo punto posso ricaricare l'elemento e vedo tutti i riferimenti al loro posto vedete il riferimento all'enciclopedia nazionale lituana online in particolare a questa voce consultata oggi e così via su tutti i diversi punti e di conseguenza l'elemento risulta a questo punto molto più completo e aggiornato vi ringrazio